Lo shock da Covid-19 è stato ormai ribattezzato come un cigno nero. Questo tipo di accostamento è comprensibile, data la sua natura di evento estremamente raro, ma da una portata molto rilevante e significativa. Qui il richiamo è al concetto formulato dal filosofo matematico Nassim Taleb nel 2007 nel suo ormai famosissimo saggio The Black Swan. Occorre però una cautela da questo punto di vista perché lo stesso Taleb in una sua recente intervista al New Yorker dello scorso aprile ha detto che in effetti lo shock pandemico non è un vero e proprio cigno nero ma piuttosto il presagio di un'economia globale che diventa sempre più fragile perché sostanzialmente più interdipendente, più interconnessa e se relativamente a questi fattori c'è tutta una serie di aspetti positivi ovviamente questa la espone anche a delle fragilità. Cigno nero però o no una cosa è sicura è che questo shock pandemico si va a innestare su un quadro dei rischi che era già di per sé sovraffollato. Questo lo abbiamo puntualizzato nel nostro scenario mappa dei rischi all'inizio anno e giusto per citare i rischi principali con cui si aprivano i primi mesi del 2020. Pensiamo insomma un po' alle tensioni protezionistiche tra Stati Uniti e Cina, i temi legati alla Brexit o le grandi crisi sociopolitiche ed anche economiche che hanno attraversato e attraversano tutt'oggi il Medio Oriente. È chiaro quindi che ci troviamo di fronte a un quadro globale che è totalmente mutato nel corso del 2020. L'impatto pandemico e le relative misure di contenimento adottato, inclusa la sospensione di attività economiche, hanno portato a quello che è stato chiamato il grande lockdown. Lockdown che parzialmente è tutt'ora in corso. Ci troviamo quindi di fronte a un quadro che è eterogeneo ed incerto con alcune economie la cui ripartenza è avvenuta ma è avvenuta lentamente e intere aree geografiche che stanno ancora cercando di fronteggiare la diffusione dei contagi. Nello scenario di base, ossia quello a maggiore probabilità di accadimento che noi prevediamo nel rapporto export del 2020, le variazioni sia della crescita economica che degli scambi mondiali saranno ampiamente negativi nel 2020. A fronte però di questi dati fortemente negativi per il 2020, diciamo è lecito attendersi in uno scenario in cui la pandemia si arresterà o si ridurrà significativamente verso la fine dell'anno e di efficacia delle politiche economiche adottate, è lecito attendersi per il 2021 un recupero, se non completo, pressoché completo di queste variabili. Nel nostro scenario di base noi ci attendiamo che l'export italiano di beni in valore registri un meno 11,3%. Ci attendiamo però una ripresa molto veloce nel 2021 con le esportazioni di beni che cresceranno più del 9%, esattamente più 9,3% e con dinamiche di crescita relativamente alte anche nel bienio 2022-2023, intorno al 5%. Altrettanto reattiva nel 2021 sarà anche la ripresa delle nostre esportazioni di servizi che però quest'anno subiranno un vero e proprio crollo e il fattore principale di questo crollo, anche se non esclusivo, è stato quello del turismo. La velocità quindi di ripresa sarà una velocità importante per l'export italiano, occorre però precisare che questa velocità non sarà la stessa per i settori e per le aree geografiche. Il quadro è sicuramente eterogeneo per i settori delle esportazioni di beni italiane e le maggiori spinte a ribasso noi le prevediamo per il raggruppamento dei beni intermedi, in particolare nei settori dei metalli e anche se in misura minore in quello dei prodotti in gomma e plastica. Questi sono i settori che più hanno risentito delle interruzioni delle catene globali del valore dovuti ai blocchi produttivi diffusi legati alla pandemia. Migliori invece sono le aspettative e le prospettive per il settore della chimica anche nello stesso 2020 che sarà più resistente allo shock grazie soprattutto al traino del comparto farmaceutico. Diverse criticità caratterizzeranno anche i beni di consumo, in particolare il settore della moda, la cui ripresa avverrà sì nel 2021 ma sarà più lenta rispetto alla media degli altri settori. Sono inoltre molte le ombre nel 2020 che riguarderanno il raggruppamento dei beni di investimento, in particolare il settore dei mezzi di trasporto dove sarà molto colpito il segmento automotive. Questo non ci sorprende perché le esportazioni di questo segmento hanno già sofferto nel 2019 anche se degli spirali di timidi lievi si vedono per i veicoli più green. Allo stesso modo nel 2020 saranno debole le dinamiche di vendita all'estero della meccanica strumentale e degli apparecchi elettrici che soffriranno i ritardi e le cautele nelle scelte da parte sia delle famiglie che delle imprese legate anche al quadro di forte incertezza che ancora stiamo vivendo. Diverso è il contesto e invece il quadro che riguarda i beni del raggruppamento dell'agroalimentare intesi sia come beni agricoli sia come beni della trasformazione alimentare. in questo caso ovviamente nello stesso 2020 non abbiamo assistito a drastici blocchi della produzione e allo stesso modo la domanda ovviamente la spesa per beni alimentari in bevande delle famiglie ovviamente ha tenuto anche in un periodo di crisi come questo e con le imposizioni ai movimenti fisici che sono state imposte. Eterogeneo è anche il quadro relativamente ai mercati di sbocco. Da questo punto di vista per quanto riguarda quindi i mercati a noi più vicini l'Europa avanzata e poi il Nord America ovviamente la caduta dell'export nel 2020 sarà significativa ma vi sarà una buona ripartenza nel 2021 anche se alla fine di questo anno ancora non saranno raggiunti di nuovo i livelli dell'export del 2019. Vanno segnalati come mercati particolarmente dinamici seppure con tutte le cautele del caso Germania e Stati Uniti primo e terzo mercato di destinazione delle nostre esportazioni di beni. Le aree che saranno invece più resilienti saranno quella dei paesi dell'Europa emergente e CSI così come quella dei paesi asiatici. Nel primo caso possiamo fare gli esempi di un paese UE come la Repubblica cieca e di un paese non UE come la Russia. In Asia a ripartire invece più velocemente nel 2021 dopo lo shock del 20 saranno ovviamente quelle economie che sono riuscite a gestire prima o meglio delle altre la crisi pandemica e qui ovviamente non è una sorpresa considerare un grande velocità ovviamente di ripartenza della Cina, considerare anche importanti opportunità nella Corea del Sud e il Giappone ma anche in paesi come il Vietnam. Diverso è il caso invece per aree come l'America Latina oppure l'Africa subsahariana. In questo caso anche la caduta dell'export sarà relativamente forte nel 2020, la ripartenza nel 2021 sarà relativamente buona ma qui noi abbiamo le maggiori cautele perché vi sono delle forti incertezze. Nel primo caso ossia quello ovviamente che i contagi ancora oggi si stanno ovviamente diffondendo in modo rapido e nel caso dell'Africa subsahariana per l'eventualità ovviamente di una diffusione rapida e incontrollabile che in questo momento qui non possiamo ancora prevedere. Occorre prepararsi anche a scenari più avversi. L'incertezza infatti che circonda la situazione dell'emergenza sanitaria ci ha spinto a formulare due scenari alternativi. In particolare in questi scenari alternativi abbiamo formulato delle ipotesi diverse e peggiorative rispetto al nostro scenario di base e chiaramente gli impatti che ne derivano per l'export italiano sono differenti. È importante concludere con un richiamo al titolo di questo nostro rapporto export per il 2020. Open again che rappresenta allo stesso tempo un auspicio ma anche una necessità per le imprese italiane. Gli scenari che abbiamo delineato mostrano ampiamente l'importanza delle catene globali del valore e delle ripercussioni che derivano da loro interruzioni anche se temporanee come abbiamo visto dagli impatti dello shock pandemico. Questo è particolarmente importante per un paese come l'Italia che ha un traino che ha un motore di crescita ovviamente nel suo export e dove allo stesso tempo non sono poche le filiere produttive che sono legate all'estero e qui non mi riferisco solo a un tema di esportazione ma anche ovviamente di importazione di prodotti semilavorati, di prodotti intermedi per poi produrre il prodotto finale. È doveroso andare a correggere quelle distorsioni che le integrazioni ovviamente dei mercati a livello globale hanno indubbiamente generato e questa crisi rappresenta un'opportunità importantissima per farlo ma allo stesso tempo non va dimenticato come l'apertura degli scambi internazionali abbia contribuito in passato a generare benessere e sviluppo diffusi.